Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video purtroppo oggi mi sono veramente dimenticato di fare il video in macchina per cui sono direttamente qui a Torre d'Isola in provincia di Bavia e serata con i Live Queen Tribal Event come potete vedere qui alle mie spalle questa è la postazione di Andrea Spizzato a batteria e questa è la serata che ci attende potrebbe esserci un bel po' di gente non vediamo l'ora di suonare il clima è perfetto non vediamo l'ora di scaldare il pubblico con la musica dei Queen ma questa sera abbiamo una formazione d'eccezione con Luca Visigalli al basso bassista di Fiorella Mannoia e la mia strumentazione è sempre la solita ve la faccio vedere brevemente Line 6 Helix con il mio preset vari pedali Rainbow Machine per fare suoni strani Auto Wad della Maxon Travel Booster il Colombo di Electronics e il D-Drop per abbassare la tonalità di un semitono un tono di quanto si vuole ci sono anche dei bambini ciao bambini lovation per fare gli acustici e niente a più tardi ciao cibo 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 i tuoi il motorista di lavora l'amore la visione il colonizer il cubo il cubo il cubo ciao ragazzi sto andando a torre d'isola in provincia di pavia per un live con il live qui in tribute band vediamolo di suonare dai che figata sono già arrivato ciao numero numero vai questo è buono sempre col culo prendi la tecnica la tecnica la tecnica il controllo bellissimo ciao 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 uno loro ancora ok, perché abbiamo bisogno di amico abbiamo bisogno di più amico abbiamo bisogno di qualcuno grazie a tutti 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 grazie a tutti